Ni Ao Kailan è una serie animata statunitense prodotta da Erringtoons Productions e Nickelodeon Animation Studios e la sua sigla è bellissima. Se la sigla di Ei Dagi avesse la sigla di Uncle Grandpa? No Coca-Cola Channel, Fanta Channel, Sprite Channel, Pepsi Channel, 7up Channel e Burn Channel. No Red Bull Channel? C'è già Red Bull TV. Rete 7 è un'emittente televisiva locale italiana del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino. Se la sigla del TG1 ritornasse a quella del 2014 ma con il logo attuale? Forse no. Se Rai Radio 1 e Rai Radio 3 avessero anche la versione visual? Sì, sarebbe perfetto. Se Blaze ritornasse su Sky? Sarebbe perfetto, ma non si sa. Il restyling completo di TG Norba 24? L'hanno già fatto a settembre 2022. Ciao a tutti e alla prossima.